Allora, diamo un po' di informazioni, notizie fresche, notizie fresche, per il 2025 che stiamo stravolgendo tutto. Salute! Allora, dal gran fondo pucci l'idea, perché è tutto un'idea, perché qui siamo in funzione anche di quello che le amministrazioni comunali ci stanno dando, quindi ci hanno praticamente detto che in maggio sul Lucca non possiamo fare niente. Niente gare. Niente gare, perché noi vogliamo quest'anno cercare di fare un giro completo delle mura di Lucca, l'idea sarebbe anche di coinvolgere un po' il mondo del podismo e farli andare avanti a noi e anche i bambini, con il buon Castellani ci penserà lui a procurare. E' l'anno 2025, l'anno dei bambini. Quindi, la data che abbiamo scelto adesso con l'assessore allo sport è quella del 27 di aprile, ok? Quindi il 27 di aprile dovrebbe condizionare essere la data della Gran Fondo Puccini Città di Lucca. Poi di lì, la settimana dopo, andiamo in Versilia, che rimane il 4 di maggio, poi andiamo, saltiamo tutto, saltiamo un mese e andiamo all'8 di giugno al Gran Fondo del Vento, che parte da... Magni di Lucca, due palle... No, due palle non ci siamo, non ci siamo. Magni di Lucca, l'ha già detto, 18 mila volte. Magni di Lucca e dovrebbe essere in contemporanea, anche qui vediamo, perché stiamo lavorando su un altro progetto, dovrebbe essere in contemporanea con la Tuscan Extreme, che sarà un percorso della Gran Fondo del Vento, almeno per quest'anno, e poi dobbiamo spostare anche la data del Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana, perché il circuito del Mugello farà il moto mondiale il 22 di giugno, quindi la Gran Fondo del Mugello sarà spostata alla settimana successiva e quindi noi per, ovviamente, non andare in collisione con loro, ritorneremo a luglio, scanseremo sicuramente la Maratona delle Dolomiti, che porta via tanta gente, quindi o la settimana prima della Maratona delle Dolomiti, o la settimana successiva alla Maratona delle Dolomiti. Queste sono un po' le informazioni, più o meno, che ci abbiamo ad oggi. Ora aggiorniamo tutti i siti, aggiorniamo tutti i post, fino alla prossima volta che ricambiamo l'interno. Poi c'è la chicca, ma quella, diciamo, dopo a marzo, diciamo, non ce la mettiamo. Però mi hanno già scritto, dopo faccio il messaggio che mi hanno scritto, a marzo ci sarà una gara interessante. Una gara interessante, tutta gara, quindi dal primo, che partirà, diamo solo un dettaglio. Sì. Di lì. Di lì. Di lì. Bisogna vedere se uno capisce dove siamo. Eh, siamo sulle mura a Luca, partirà di lì, il 23 di qui sotto. Di lì. Partirà di lì. Se hanno 73, 74 chilometri, tutto in un fiato. Competitivi. Competitivi. Saremo più precisi prossimamente. Appena abbiamo un po' di risposte, invece, qui si va veramente a toccare un mondo mai toccato fino adesso. Però ci riusciamo, dai, ci riusciamo. Ci riusciamo. Volere e potere, ricordate. Alla prossima, noi siamo a tutti. Ciao, ci vediamo presto. Ciao.